Presidente, i cambiamenti se non si governano ti governano loro, vale questo anche per la produzione digitale? Assolutamente sì, in modo particolare, grandi opportunità che però debbono essere governate. Può continuare a vivere la cultura fatta di storia, di tradizione, anche di libro così come l'abbiamo conosciuto, come lo conosciamo, insieme alla grande opportunità che ci viene data dall'informatica, dalla tematica, dai social network, dai internet, dall'ebook. Certo, sono processi che vanno governati, ma dobbiamo pensare che costituiscono anche delle grandi opportunità.